Bentrovati ad una nuova edizione del Tg7 Basilicata, schiuma maleodorante nel fiume Ofanto. Il fiume che bagna Puglia, Basilicata e Campania è sotto osservazione dal personale del Dipartimento di Foggia dell'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che ha effettuato i campionamenti delle acque all'altezza di Canosa di Puglia, segnalata da associazioni ambientaliste. La presenza di schiuma è stata infatti segnalata dai volontari dell'Associazione Nazionale di Protezione Animali, Nature e Ambiente e da Italia Nostra. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo sempre qui al Tg7 Basilicata nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e arrivederci.